Non può essere ritenuto un'intestazione fittizia di beni, il deposito in un'abitazione privata di contanti, deposito reso occulto per ragioni attinenti la necessità di prevenire sottrazioni, ossia solo per evitare che quel denaro venga rubato e lo stesso discorso vale per somme custodite in cassette di sicurezza. Così la Corte d'Appello di Milano, motivato la conferma dell'assoluzione per Fabrizio Corona, dall'accusa principale per la nota vicenda dei circa 2,6 milioni di euro trovati, in parte in un controsoffitto e in parte in Austria. La Corte a settembre aveva ridotto ad un anno e sei mesi la pena per Corona per un illecito fiscale, concedendogli un attenuante per aver saldato il debito. Nelle motivazioni la Corte conferma poi che quei contanti non erano altro che i proventi nero delle attività lavorative dell'ex agente fotografico. 16 mesi di carcere per Fabrizio e 7 per Francesca Persi, senza motivo, ha detto l'Avvocato Ivano Chiesa. Adesso spero che la Procura di Milano non insista oltre, bisogna saper perdere. La sentenza, ha spiegato l'Avvocato che ha difeso l'ex re dei paparazzi assieme al collega Luca Sirotti, conferma che i soldi erano leciti e frutto del lavoro di Corona e delle società. Non c'è mai stata, ha aggiunto, nessuna intestazione fittizia, era solo un problema fiscale sanato con il pagamento delle tasse. I giudici d'appello, Brambilla, Nunnari, Puccinelli, tre mesi fa hanno confermato l'impianto della sentenza di primo grado del giugno 2017 del collegio presieduto da Guido Salvini, che aveva già spazzato via le accuse principali, intestazione fittizia di beni e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione contestate dalla DDA. Su quei 2,6 milioni trovati in parte nel controsoffitto dell'amica Francesca Persi, pena ridotta a tre mesi, e in Austria, e che avevano portato l'ex agente fotografico nuovamente in carcere nell'ottobre del 2016, misura cautelare annullata dai giudici di primo grado. Corona era stato condannato ad un anno, ma solo per un illecito fiscale su una cartella esattoriale non pagata e in appello la Corte gli ha anche concesso un'attenuante specifica perché saldò il debito tributario prima dell'udienza preliminare. È accertato e incontestato, scrive la Corte, nelle motivazioni depositate oggi, che le somme rinvenute nel controsoffitto nelle cassette di sicurezza austriache siano da ricondurre a proventi in nero delle attività lavorative svolte da Corona attraverso la società fenice SRL prima, Atena dopo.